E adesso il volley Emma Villas-Siena, il nuovo libero della Emma Villas-Siena, Federico Bonami, ha scelto un modo molto singolare per raggiungere la sua nuova squadra. Infatti è partito da greve inchianti e in due giorni ha percorso i 50 chilometri per giungere in piazza del campo a piedi. Sentiamo Simona Sassetti. Federico Bonami ha scelto un modo particolare e suggestivo per arrivare a Siena. Lo ha fatto camminando e così il 28enne libero che vestirà la maglia dell'Emma Villas-Siena si è incamminato da greve inchianti e in due giorni ha percorso i 50 chilometri per giungere fino a Siena in piazza del campo. Sono solito fare dei cammini. Mi sono detto che poteva essere bello arrivare a Siena a piedi per calarmi lentamente nella nuova realtà, quindi partendo dal Chianti Fiorentino, dal greve, fino a piazza del campo. Per me è stato un po' un entrare con lentezza dentro quella che sarà poi la mia prossima casa per iniziare a schiarirmi le idee, a puntare bene l'obiettivo per la prossima stagione, i miei obiettivi personali, la squadra che ci sarà, il posto che dovrò conoscere. Quindi camminare è una cosa che faccio spesso e lo volevo fare anche per raggiungere la città di Siena. Il trasferimento di Bonami all'Emma Villas-Siena si è concretizzato solo nell'ultime ore del mercato. Si è trattato infatti dell'ultimo colpo effettuato in estate dal team senese per Bonami, che è nato a Bagno a Ripoli, è un ritorno in Toscana. Il mio obiettivo personale è migliorarmi rispetto alla stagione passata, quindi sia come piazzamento in classifica sia come prestazioni e cercare di portare il mio modo di essere nel team, nella città, cercando di trasmettere tutta l'energia che ho ai compagni, cercando di creare un'identità di squadra, che secondo me è la cosa più importante.